E' stato beccato in flagranza di reato l'autore del furto avvenuto nel pomeriggio di ieri al Big Market di via Madonna dell'Asilo a Vasto. Si tratta dell'ennesimo atto criminale messo a segno in città nell'ultimo periodo. Il responsabile è un rumeno di 24 anni con precedenti per spaccio che è stato fermato mentre si trovava in bici in via Valloncello grazie alla tempestivo intervento degli agenti del commissariato di via Bachelet. Con sé aveva ancora il registratore di cassa asportato con l'incasso di circa 300 euro. Appena è stato consumato il furto la volante del commissariato di Vasto si trovava a circa 100 metri dell'attività commerciale derubata. E pertanto anche grazie a un cittadino che ha inseguito lo straniero che aveva consumato il furto si è assicurato alla giustizia l'autore di questo gesto criminale. Si tratta di un furto aggravato. Lo stesso dopo essere stato raggiunto da un operatore di volante ha cercato di assicurarsi la fuga col pendolo con calci e pugni ma nonostante ciò è stato arrestato per i reati di furto aggravato, resistenza pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso. Addosso aveva anche una pistola giocattolo che comunque non ha utilizzato per commettere l'attività delittuosa la quale presenta delle forti analogie con il furto commesso qualche giorno fa in un'altra attività commerciale. Evidentemente seguiranno degli approfondimenti investigativi per accertare se lo stesso sia l'autore degli altri reati consumati in zona. In attesa della convalida dell'arresto è da verificare se quest'ultimo sia anche il responsabile di altri furti ed episodi di violenza commessi di recente in quella zona della città, quasi uno al giorno e che hanno riportato in auge il problema sicurezza. Del resto non è facile per le forze dell'ordine svolgere al meglio il proprio lavoro trovandosi a fronteggiare i criminali sotto organico e molto spesso anche costretti a fare doppi turni per assicurare nel migliore dei modi la propria presenza sul territorio.